Buongiorno a tutti, oggi martedì ma si fa la sella. Abbiamo avuto un'ordinazione per una festa e quindi siamo operativi. Le patate purtroppo sono tutte ordinate, qualche vaschetta di sella ci sta. A dopo! Eccola qua, l'abbiamo fatta prima raffreddare, altrimenti era complicato affettarla e poi l'abbiamo affettata. Adesso ci aggiungiamo il condimento, la sella infrasettimanale è pronta. Secondo step, il nostro brasato col pomodorino rosso, pomodorino piccadissimo, ma pure bene. Il mio spicchio stamattina è al contrario. Eccoci qua. Come sempre, da qualsiasi angolazione, rimane sempre bene.